Tra Bari e la città di Cantone in Cina esiste un gemellaggio lungo ormai da 35 anni che si compiranno il prossimo 12 novembre, date in cui sarà avviato il percorso per la realizzazione di un'aula confucio a Bari. Nelle prossime ore invece l'assessora alle politiche educative e giovanile Paola Romano si recherà presso la scuola secondaria di primo grado San Nicola dell'istituto comprensivo Umberto I con il dirigente scolastico dell'istituto Giuseppe Capozza e la docente referente del plesso Adalisa Coluccia per rivolgere un saluto alle nuove classi che si sono formate e inaugurare il primo corso di cultura e lingua cinese diretto dalla professoressa Chen Qian, che sarà parte integrante dell'offerta formativa della scuola per l'anno scolastico 2021-2022. Il progetto nasce su iniziativa di un gruppo di genitori baresi che hanno deciso di iscrivere presso la scuola San Nicola i propri figli benché residenti anche in altri quartieri della città, promuovendo l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica con attività interculturali e forte vocazione internazionale. Questo è un progetto che rientra in realtà nell'ambito della celebrazione del gemellaggio del 35esimo anniversario del gemellaggio con Canton ma è soprattutto l'espressione della volontà dei genitori e del corpo docente di questa scuola di rilanciare la didattica all'insegna dell'intercultura. E proprio per questo il comitato dei genitori della scuola San Nicola e la dirigenza e gli insegnanti ci hanno proposto di integrare la didattica normale con una lezione di cinese che avverrà ogni settimana di venerdì. Io farò nove lezioni qui per iniziare questo corso della lingua, letteratura e cultura cinese. Siccome considerando sono i ragazzi di prima media quindi utilizziamo il metodo e diciamo è più divertente per loro.